Come accedere al fascicolo previdenziale tramite il sito IMSS? Per prima cosa bisogna andare sul sito ufficiale IMSS. Possiamo effettuare il login tramite speed dopodiché bisogna digitare nella sezione cerca fascicolo previdenziale e cliccare su approfondisci ed utilizza servizio. Se il video è stato utile iscriviti al canale e lascia un commento.